Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo un briefing di quello che sta succedendo sul mercato perché Bitcoin ha fatto un tentativo di rottura della famosa resistenza ormai a 12.100 ma è tornato indietro, quindi non ce l'ha fatta. Ancora una volta è stato respinto, stava tentando il break qualche giorno fa ma non ci è riuscito, quindi è ritornato indietro e però ragazzi ha fatto un minimo che rientra in pratica nella nostra logica ciclica che vi ho mostrato nelle scorse settimane. Allora, oggi faccio un video solo sulla chart perché non sono in sede e quindi sono in ferie, ormai lo sapete, e quindi sono fuori. Perciò volevo aggiornarvi un po' da un punto di vista grafico e poi volevo anche farvi vedere delle peculiarità che sono legate alla dominance di Bitcoin per farvi capire come potremmo assistere anche nei prossimi giorni ad un'app di Bitcoin, anche per una configurazione che c'è sulla dominance di Bitcoin, una configurazione di figurazione ciclica e poi vi faccio vedere anche come quest'anno c'è un nuovo grafico che volevo mostrarvi per farvi capire come l'allocazione nel mercato criptovalute per l'anno 2020 si sia leggermente spostata verso la DeFi. Ormai è un dato assodato, avete visto il mio video di lunedì dove vi parlavo di band ma soprattutto anche quello dove vi ho mostrato il nuovo portafoglio che ho creato per quanto riguarda la gestione di questi pump. Insomma abbiamo preso anche il pump su comp proprio recentemente, proprio perché era indicato anche all'interno di quel portafoglio, quindi abbiamo fatto più 45% ragazzi, proprio nelle scorse giornate. Vi faccio vedere anche il Cryptoverse Race come lo stiamo gestendo, eccolo qui ragazzi, vedete? Quindi questo l'ingresso su comp che ho gestito più o meno dal break di questo livello, più o meno qui è questo, è tutto. Il profitto che abbiamo preso che risale più o meno dovrebbe essere tra questa fascia e questi livelli, quindi siamo al 52%, non è ancora uscita l'operazione. Ma questo un po' per farvi capire come effettivamente ci siano delle buone occasioni in pratica nell'ambito dei mercati DeFi e anche delle coin leggermente più piccole. Quindi oggi andiamo ad analizzare un po' tutte queste cose in questo video. Partiamo però dal video relativo di Bitcoin, adesso vi faccio ricaricare nuovamente il grafico di ragazzi di Bitcoin, quello che abbiamo e che guardiamo sempre a livello ciclico per mostrarvi questa peculiarità, questa particolarità. Allora, vediamo se riesco a mostrarvi il grafico in maniera più chiara sul mio tablet. Allora, ecco qui ragazzi, quello che volevo farvi vedere era questo minimo che corrisponde esattamente, quindi questo qui in pratica, quello della giornata di oggi, corrisponde ragazzi esattamente con quello che poi effettivamente ci aspettavamo come struttura di configurazione ciclica. Se vi ricordate vi avevo accennato al fatto che questa fase ciclica fosse ternaria e che probabilmente questo ciclo ternario aveva una configurazione così sviluppata, quindi uno, due e poi un terzo ciclo di questo tipo. Sembrerebbe proprio nella giornata di oggi che il mercato abbia fatto questo sdlancio, questo sdlancio di bassista che va proprio a delinearci il ciclo centrale di cui vi avevo parlato nello scorso video, quello del lunedì anche, ma l'avevo anche accennato la scorsa settimana. Questa cosa prelude nuovamente ad un tentativo di aggressione di questa famosa resistenza 12.100. Ragazzi, resistenza che è vero, che è una resistenza imponente, importante, abbiamo visto che sta dimostrando la sua forza, però è anche vero ragazzi che vedete questi swing a ribasso, cioè il primo qui che poi va giù e poi quello dell'altro giorno che poi va giù, non stanno dimostrando una grande forza ribassista. Questo è un dato positivo perché abbiamo un minimo e un minimo che è superiore, vedete, questi due minimi sono superiori, quindi è vero che la resistenza 12.100 sta dimostrando la sua forza, è vero che non bisogna andare mai contro trend ragazzi, quindi in questo momento definire questo atteggiamento di bitcoin un ingresso lungo alla cieca non è corretto, però è anche vero che ragionando possiamo dire che questa resistenza 12.100 sta dimostrando un po' di forza, però allo stesso tempo i movimenti ribassisti, quindi gli orsi, quando aggrediscono questa resistenza, non hanno tanta forza quindi al ribasso perché vedete che sia le parti in pratica di riduzione, diciamo di discesa sono più strette, sia il mercato si riprende poi velocemente perché avete visto poi la ripresa per esempio in questa fase e anche nella giornata di oggi si sta riprendendo. Allora, oggi siamo sia in una scadenza da un punto di vista ciclico di un ciclo che può essere definito mediano, è un ciclo però difficile ragazzi da interpretare perché i cicli a metà di questo modello, di questa fase, se il ciclo eternario come stiamo seguendo questo momento, sono un pochettino sporchi, quindi nella loro struttura sia di tempo sia di prezzo, non hanno una certa linearità perché di solito fanno queste barre di congestione, in effetti anche in questo caso vediamo una barra di congestione, vedete, nella sua fase tecnicamente di ribasso, quindi non abbiamo un trend delineato di questo tipo, ecco, ribassista, però è anche vero che c'è stata questa fase. Allora, questo cosa significa e come possiamo in questo momento interpretare questa fase di ribalzo? Possiamo interpretarla in questo modo, se da domani il mercato riuscirà di nuovo a riportarsi in questa fascia, potrà avere grande potenzialità magari di andare a rompere questa resistenza domani e mercoledì, quindi proprio, scusate, giovedì, quindi proprio a cavallo della fase di chiusura della settimana, che poi è quello che ci interessa perché vi avevo mostrato anche nel famoso grafico settimanale, adesso vediamo se lo richiamiamo di nuovo il mio grafico di ciclo di lungo periodo, vedete, vi avevo mostrato come effettivamente la lineetta blu, in questo caso, e poi i massimi a 12.000, stanno tenendo banco, quindi è a livello settimanale che noi dobbiamo salire qui dentro, ragazzi, e qui ci sarà da ridere perché il mercato non ha grandi poi ostacoli davanti a sé, quindi potremmo avere grandi soddisfazioni da questo punto di vista. Ad accompagnare questa view di, appunto, resistenza del trend long, io la chiamerei così, ragazzi, perché in realtà Bitcoin non sta facendo dei grandi pump, in realtà è passato, appunto, da 9.500 a questa struttura di trading range, che poi sono 11.000 e qualcosa, 11.500 e 12, e quindi, insomma, se lo facciamo, se lo accostiamo a quello che è successo su Ethereum, semplicemente per non parlare poi di bandlink, di queste criptovalute un po' più in voga in questo momento, è chiaro che l'oscillazione di Bitcoin è stata misera, ecco, definiamola così, però questa sua resistenza alla resistenza, chiamiamolo così, di 12.100, quindi una resistenza di spinta rialzista, è favorevole, è positiva, perché potrebbe innescare, appunto, questo tentativo di break, tentativo di break che ha anche lui un po' i giorni o barra le ore contate, perché? Perché se, effettivamente, questo è un ciclo ternario, così come ve l'ho descritto negli scorsi video, questo ciclo ternario dovrà avere questa struttura, vedete, e dopodiché qui, intorno quindi al 20, 22, iniziare la sua fase di ribasso, quindi, in pratica, la fase di break di questo 12.10 potrebbe essere importante, perché magari potrebbe accompagnare, per un po', e, insomma, far fare al mercato un grande balzo, ecco, ragazzi, questo è il discorso, potremmo avere lo stesso balzo che abbiamo avuto qui, con un break del genere, e fare così, prima di andare, magari, a fare la close. Però poi dobbiamo andare a chiudere questo ciclo, ragazzi, a fine mese di giugno, più o meno, se tutto è in linea, e, anche se la fase ribassista potrebbe essere breve, magari non importante, dobbiamo tenerne conto, quindi, un po', il trend di Bitcoin deve dimostrare la sua forza nei prossimi giorni, questo è quello che voglio dirvi, ma, al momento, lo sta facendo, mi piace molto questa reazione di oggi, speriamo, duri, e, soprattutto, riesca a riportarsi in area di 12.100, altrimenti, resta, a questo punto, il minimo della giornata di oggi, ragazzi, un minimo di estrema rilevanza. Allora, il minimo della giornata di oggi, vedete qui, è intorno agli 11.100, questo minimo è molto rilevante, perché un eventuale break del minimo della giornata di oggi, già da domani, dopo domani, non è positivo, quindi girerà il mercato, probabilmente andrà di nuovo a testare il livello di 10.500, precedentemente definito resistenza, che ora possiamo modificare in livello di supporto di medio periodo. Bene, a, diciamo, completezza di questo discorso, possiamo andare a guardare, a questo punto, la nostra dominance. Allora, ragazzi, la dominance di Bitcoin, nonostante i super rialzi del mercato delle criptovalute e delle altcoin, delle altcoin, ragazzi, negli ultimi periodi, è ancora stabile. Vedete che, in effetti, Bitcoin, da un punto di vista di dominance, sta facendo questo trend leggermente laterale ribassista, ma non ha, non è sprofondato, ragazzi. È vero, però, che siamo al di sotto della media mobile a 100 settimane, perché questo è un grafico settimanale, vedete? Però, la stessa media mobile a 100 settimane, va tenuto in considerazione, perché in questo momento non è un vero break, è semplicemente un'oscillazione, quindi il mercato si è riportato sul suo naturale trend rialzista da due anni. Quindi Bitcoin e la sua dominance ancora resistono, ragazzi, nonostante i super up delle altcoin di questi giorni. Quindi non dobbiamo sottovalutare il re, perché è vero che siamo sotto questo livello di resistenza, ma è anche vero, come vi ho spiegato più volte, che sopra questi livelli di resistenza non abbiamo grandi ostacoli per Bitcoin, se non, appunto, i massimi al 2019 e poi, vada ben, i massimi storici, ragazzi. Quindi stiamo parlando di migliaia di euro di distanza, praticamente. Quindi, insomma, ci sarà da ridere, vedere cosa succederà, insomma, se Bitcoin riuscirà a superare questi livelli. In più, come vi avevo promesso, la configurazione di questa figura che vediamo sulla dominance va considerata, ragazzi, perché? Perché sembra propriamente un ciclo che sta terminando, quindi sta terminando la sua fase di ribasso ed è pronto per una nuova fase rialzista. Guardate la configurazione proprio ciclica perfetta della dominance di Bitcoin. Ragazzi, questo è un ciclo perfetto con tutti i suoi sottocicli, quindi sembra proprio che il mercato sia in fase di chiusura di questa fase ciclica che vediamo per poi riprendere una nuova fase up. E magari, ecco, io spero, devo essere sincero, ragazzi, che Bitcoin mantenga la sua dominance avvicino al 50-60%, come sta facendo in questo momento, però anche che l'altra parte del mercato criptovaluto, quindi le altcoin, continuino a macinare. E questo è ovvio. Per fare questo dobbiamo avere, in sostanza, un Bitcoin forte, ma poi un trend di una dominance che non sia poi effettivamente un trend rialzista, come l'ho disegnato qui, ragazzi, altrimenti significherebbe quasi cancellare il mercato delle altcoin. E questo non lo vogliamo, perché per la sopravvivenza del settore, per l'ampliamento del settore, e tutto quello che ne viene fuori, una dominance di Bitcoin eccessiva, troppo alta, non è propriamente un bene. Questo è chiaro, ragazzi. Quindi possiamo magari ragionare in una dominance di questo tipo, magari, che andrà a fare la sua escursione con una nuova ciclicità. Però, non vi nascondo che questo movimento ciclico va considerato, perché sembra proprio la chiusura di un ciclo per la ripresa. Ancora in questo momento non c'è una ripresa della dominance di Bitcoin, perché, da un punto di vista settimanale, non c'è nessuna oscillazione di inversione di trend. Guardate, vi allargo anche il grafico settimanale per farvi capire quello che sto dicendo. Non è cambiato, non è mutato il trend nel breve periodo. Vedete, tutto discendente a che livello settimanale. Passiamo all'ultimo indicatore che volevo farvi vedere, proprio per farvi capire come quest'anno 2020 è veramente così speciale. Allora, ragazzi, questa è un'indicazione di un indice che divide il mercato criptovalute in, vi faccio vedere qui giù, in asset mid-cap, small-cap e large-cap. Allora, la rossa che vedete qui in testa, ok, questo è il rendimento one year, quindi a un anno, del mercato criptovalute e vi indica in questo momento che il mercato delle cripto ha un, in pratica, un, vediamo, ho spostato, ok, ha un'oscillazione diversa rispetto al passato perché l'app, in sostanza, delle linee rossa è superiore. Vedete, 27% di rialzo a un anno contro il 7% delle large-cap e il meno 13% delle small-cap. Questo indicatore sta dicendo, ragazzi, che le mid-cap, vedete, le mid-cap in questo momento sono più forti delle large-cap. Le large-cap, cioè, sono le top 100, insomma, ad alta capitalizzazione. Quindi il mercato cripto nel 2020 si è mosso a metà strada, ragazzi, perché le small sono andate male, addirittura in negativo. Le large si sono mantenute ad un rialzo del 7%, ma il rialzo importante lo hanno fatto le mid-cap, con un più 27, che comunque è tre volte quello delle large-cap. Quindi questo ancora di più dimostra come ci sia un effetto anche di diversificazione che inizia ad essere importante, che dobbiamo iniziare a considerare, soprattutto su quei progetti della DeFi, questi progetti che stanno iniziando a dare importante view di adoption in questo settore, soprattutto nell'ambito, appunto, della DeFi, che sta andando abbastanza bene, ma lo si, diciamo, prevedeva già all'inizio dell'anno. Se invece allarghiamo un po' la più, ragazzi, allora vi faccio vedere come cambia e come, se basta allargare un pochettino, vedete, gli anni e mettere due anni al riferimento, guardate come cambia radicalmente e come le large-cap sono in netto vantaggio, anche se a due anni siamo ancora in fase negativa, perché si viene, appunto, dai massimi del 2018, in questo caso, quindi vedete una percentuale negativa perché c'è di mezzo ancora il mercato orso del 2018, però vedete come le large-cap sono essenzialmente superiori a tutte le altre. Quindi questo momento di forza del mercato mid-cap che vediamo in quest'anno potrebbe essere semplicemente temporaneo, però, perché no, ragazzi, valutiamolo ed è anche un'altra indicazione del fatto che la dominance dei bitcoin potrebbe essere in effetti arrivata ad una fase di inversione e che quindi non dobbiamo sottovalutare il re delle criptovalute perché vedete un po' come siamo in una situazione che i dati passati non confermano. Bene, ragazzi, allora oggi tanti numeri, tanti grafici e soprattutto non avete visto il mio faccione perché sono fuori. Noi ci rivediamo venerdì col prossimo video e niente che dire speriamo di riuscire a rompere questi 12.100 Ciao a tutti!